Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno delle tre streghe. Finalmente ci siamo arrivati. Un giorno prima sconosciuto ai più su tre di in più, poi noto dopo tante analisi fatte. Siamo in una situazione di stallo, ok? Nel senso che continuiamo a girare attorno a questi valori. Ogni tanto li bucchiamo, ogni tanto li bucchiamo sopra, ogni tanto li bucchiamo sotto e continuiamo in questo modo da un po' troppo tempo, ok? Per cui, oggi vedremo se andremo sopra questo massimo e a quel punto faremo partire un qualcosa di grosso, di inverso e andremo a scendere, oppure se andremo direttamente piano piano a scendere. Anche perché abbiamo che qui, da questo massimo a questo massimo, abbiamo fatto un bel t-1 inverso a 4t-3 inversi. Per cui adesso bisognerebbe avere una bella spinta di almeno una giornata a ribasso. E dato che il secondo t-3 è iniziato già due ore e un quarto fa, ed è arrivato a 9 barre su minimo 21-22, può iniziare un po' a scendere, ok? I future sono, li ho controllati prima ma non erano particolarmente mossi, sono a più 22 punti per la Germania e più 30 punti per l'Italia. Nulla di particolare per adesso. Hanno oscillato molto durante la notte, soprattutto attorno alle 4, se non mi ricordo male. alle 4 ho fatto un minimo molto forte, dopo aver fatto un massimo molto alto. C'è stata molta variabilità perché oggi chiudono appunto i contratti, scadono i contratti su opzioni, future e tutto quello che volete. e quindi bisogna fare il roll, ovvero bisogna passare da contratti con vecchie scadenze a nuove scadenze. In questi giorni, come avete visto, i volumi non ci hanno aiutato particolarmente perché se trasferiamo sullo stesso indice contratti da una scadenza a un'altra, da un contratto con una scadenza a quella un'altra, creo dei volumi, certamente, magari di vendita del vecchio contratto e di acquisto del nuovo. Però in realtà, non impatto sull'indice perché è sempre sull'indice il contratto, per cui la vista viene annebbiata. In questo caso, conviene non muoversi. Oggi è una giornata in cui potete andare a fare tutto quello che volete. Stare con la vostra famiglia, andare a pesca, lavorare, tutto quello che volete. Ogni tanto dare un'occhiata al grafico e vedere appunto se siamo andati qua sopra oppure se abbiamo iniziato a scendere. Perché intanto la solfa è quella che vi raccontavo prima. Stessa identica cosa per quanto riguarda il fuzzimib, anche se sul fuzzimib avrei una connotazione in più da fare, ma l'ho già fatto anche io di sera, per cui se avete ascoltato l'analisi, che spero abbiate trovato interessante, sapete già tutto. La forza relativa è molto più bassa. Qui è possibile azzardarsi a dire che siamo ancora in questo t settimanale e non in uno nuovo. Perché non abbiamo violato nessuno swing, siamo rimasti sotto le medie mobili. In questo caso non avremo la chiusura di un t-1 ma soltanto di un t-2 e dopo dovrà partire un nuovo t-2. Oltretutto essendo arrivati di inverso a 34 bar su in media 32 e al massimo 44, abbiamo tempo massimissimo, 10 bar ovvero 2 ore e mezza per eventualmente provare ad aggiornare i massimi e poi bisognerà iniziare di nuovo a scendere. E non soltanto per un t-5 inverso, scendere di indice, ma per il doppio. Quindi un t-4 inverso. E quindi dopo una prima parte della mattina che può provare eventualmente, se vuole, ad aggiornare i massimi, se ha voglia, successivamente dovranno avere comunque discesa. Vi faccio notare però altre cose interessanti. Ovvero, per quanto riguarda la volatilità, abbiamo fatto un bel balzo ieri, con un'apertura del VIX qua sopra che poi è tornata sui suoi passi, che poi è ritornata sopra, che poi è ritornata giù, quindi finta rialzo, ribasso, rialzo, ribasso, divergenza teoricamente rialzista con media mobile che sta andando a provare eventualmente a tagliare dal basso verso l'alto quella a 200 e quindi crea un Golden Cross. Tutto da vedere. Questo è quello che in questo momento il grafico dice. L'altra cosa interessante da andare a vedere sul grafico delle giornaliere dell'S&P 500 è che rispetto alle medie mobili che fanno solitamente da supporto per i corsi, soprattutto nella seconda parte della crescita degli indici dai minimi, qui non avevamo supporti, anzi siamo dovuti andare a violare le due medie mobili. Da qui in poi abbiamo avuto la media mobile a 50 periodi che ci ha fatto da, tra virgolette, culla, da supporto. Guardate, qui è già la seconda volta che ci finiamo sopra. Quando qui ci siamo finiti sopra solo una volta, qui l'abbiamo sorpassata, ok? L'abbiamo utilizzata per andare a scavallare. Altre volte, non ci sono tante altre volte in cui siamo finiti sulla media mobile, così tanto spesso. In questo caso abbiamo che il T settimanale di Standard & Poor's 500, iniziato sul minimo dell'11 di settembre, ha fatto 1, 2, 3, 4 giornalieri, dimostrando per ora abbastanza scarsa forza relativa. E sappiamo che il nostro T più 2 mensile, partito da questo minimo qua, è arrivato a 26 barre qui. Può aver chiuso qui? Vediamo subito. A 22 barre, tanto corto. Minimo sono 24, 23 proprio se vogliamo tirarla, 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 ma 24. Qui abbiamo un 22. Per cui se è corretta la centratura, e qui manca ancora la chiusura del T più 2 mensile. E per avere una chiusura del T più 2 mensile bisogna andare qua sotto, perlomeno. Sotto i 3310. Oltretutto, la spinta da questa candela dovrebbe esserci il massimo, qui è stato fatto su questa rossa. Prima spinta dell'inverso, seconda già candela verde, ma perché si è scontrata con la media mobile a 50 periodi in rosso. Poi, sta partendo che cosa da qua? Minimo un T più 2 inverso. Massimo un T più 4 inverso semestrale. Per cui, qui è più confusa la situazione, d'accordo? Poi avete tanti elementi particolari. Qui un po' meno, perché ormai i giochi sono fatti da questo massimo. Ovvero, vogliamo dirci che abbiamo chiuso sui 20.043 a 41 barre? Ok, allora bisogna far partire un nuovo T più 2 inverso. Vogliamo dirci che, invece, abbiamo chiuso qua, a 32. Non siamo andati in violazione di questo massimo. Deve spingere il secondo settimanale di questa struttura, scusate, il secondo settimanale di T più 1. Sì, il secondo settimanale è verso il basso sempre l'indice. Quanto siamo arrivati? Siamo arrivati a 7. Su massimo 11. Questo è quanto vi suggerisco sempre di fare. Osservate non soltanto il vostro mercato, ma anche altri mercati. Osservate soprattutto l'SMP500, che è quello fondamentale per capire i movimenti. Date un'occhiata eventualmente alla Vixen e guardateli a più time frame. Anche il time frame a 4 ore è interessante. Vi ringrazio per l'ascolto che mi date. Se l'analisi vi è piaciuta e vi ha dato qualcosa, mettete un bel like sul canale YouTube. Iscrivetevi al canale perché intanto è totalmente gratuito. Splenda giornata delle tre streghe a tutti.